Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Con 290 nuovi casi gestiti da TS della Montagna, questo è il quadro aggiornato alle 23.59 di ieri, mercoledì 29 giugno, in provincia di Sondrio il numero di positivi al Covid non solo ha sfondato il tetto dei 1000 casi, ma è giunto addirittura a quota 1111. Una escalation continua e preoccupante se si considera il solo mese di giugno. 4 giovedì fa infatti i positivi erano 289 che poi sono saliti a 407 la settimana successiva per diventare 600 la data di giovedì scorso, numero che verosimilmente con il report di domani risulterà addirittura doppiato. E non è finita se si pensa che si tratta di numeri che non rifletterebbero se non per difetto i reali contagi. Ma che cosa sta accadendo? La risposta in parte si chiama Omicron 5, ovvero la più recente tra le varianti del coronavirus. Variante contagiosissima la cui circolazione è senz'altro favorita anche dall'addio pressoché totale alle mascherine, unito, va detto, al clima di maggiore socialità legato all'estate e alle vacanze. Va oltre l'infettivologo Matteo Bassetti che ha affidato al proprio profilo Facebook una previsione decisamente inquietante, ovvero quella di lockdown a tutti gli effetti che, anche se non ufficiale, attenderebbe il prossimo mese tantissimi italiani. In isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani se non di più, dice l'infettivologo, che sommati a quelli in ferie rischiano di mandare in tilt servizi essenziali come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress, la stessa sanità dove in media tra luglio e agosto metà del personale se ne va in vacanza, mettendo fuori uso un letto su tre, per non parlare del settore turistico e della ristorazione. La speranza naturalmente è che questa previsione di Bassetti non si avveri, nel frattempo è sempre più raccomandabile riprendere l'uso della mascherina al chiuso e negli ambienti affollati, abbondare con gli igienizzanti per le mani e soprattutto effettuare il tampone in caso di malessere, in particolare forte mal di gola e in certi casi anche la febbre talvolta alta. Altri sintomi spia, dolori e stanchezza, meno frequente invece il mal di testa.